Con noi il signor Primo Romagnolo, in rappresentanza di Terre Bianche, ci racconta di questa azienda. Noi siamo nati nel 1980 come produttori, diciamo, coltivatori, per capirci, e appunto siamo arrivati fino nel 2015 sempre coltivatori e produttori solamente. Poi dopo, dal 2015, si è inserito appunto il figlio che ha poi messo in piedi anche la parte, diciamo, trasformazione e appunto i nostri prodotti facciamo variati prodotti dalle tostate, semilavorato, torrone, crema spalmabile e variati altri prodotti. Due importanti prodotti, diciamo, in commercio abbastanza cavallo di battaglia, per dire, sarebbero la nocciola tostata e il torrone, che facciamo sia morbido che friabile, e appunto sono due prodotti abbastanza validi. Mi raccontava della vostra storia che nasce come produttori e coltivatori, quindi parliamo dell'elemento nocciola. Nocciola, nocciola, sì, nocciola. Questo evento che bolle vi aiuta a farvi conoscere? Noi sinceramente è la prima volta che partecipiamo, siamo abbastanza, diciamo, soddisfatti anche come organizzazione, come parte tecnica e via dicendo. Siamo contenti e facciamo conto ancora di partecipare a altri eventi. Grazie mille. A voi. Grazie mille.